Allora, li stiamo sviscerando? Sì, li stiamo sviscerando Sì, li stiamo sviscerando La tempura La tempura però facciamo Il Poderoso, no? Sì, sì, è sempre l'originale della casa Sennò il Poderoso Ci deve essere sempre Il Poderoso La tempura What's up? E poi dimostriamo Ciao Sì, no Chissimo Poi Poi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info